Musica Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Un maxi sequestro per beni stimabili in turno ai 10 milioni di euro è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti di patrimoni riconducibili a Luigi Moccia, 60 anni, boss dell'omonimo clan di Camorra, attivo nella provincia di Napoli, in particolare nella zona di Afragola. Nell'ambito di un'attività di indagine di natura patrimoniale, gli agenti della sezione misure di prevenzione patrimoniale e la questura di Napoli hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni emesso dal Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia. Tre beni sequestrati, parti immobiliari dell'hotel San Pietro nella zona della Fierrovia del Capologo Campano e società romani attive nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, così l'acquisore di Napoli Antonio De Jesu. L'importanza dei sequestri e delle successive confische rappresentano un obiettivo importante per le forze dell'ordine. L'obiettivo è togliere ossigeno al cancro della criminalità organizzata, al pari delle indagini che mirano a disarticolare e destrutturare i clan con l'individuazione dei soggetti affiliati, ma molto importante è togliere loro ossigeno, perché le organizzazioni criminali hanno un unico obiettivo, non quello di conquistare posizioni sociali, ma quello di accumulare patrimoni e ricchezze finalizzate al rinvestimento in attività illecite. Questo è l'obiettivo dell'organizzazione criminale. Questo incide sulla concorrenza imprenditoriale, economica. Questo inquina la parte sana dell'economia, per cui le indagini patrimoniali, i sequestri, le confische rappresentano un punto fondamentale dell'attività di contrasto. Circa 10.000 kg di sigarette sequestrate dalla Guardia di Finanza, che ha messo fine ad un giro di molti milioni di euro. Sigarette di contrabbando dall'est europeo, che a bordo di TIR, nascoste in finte bobine di carta da imballaggio e in blocchi di gesso per uso edile, giungevano nella nord Italia. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 10 tonnellate di tabacchi illeciti e arrestato tre persone, una rumena e due italiane, nell'ambito di un'operazione anticontrabbando eseguita nell'area bolognese in provincia di Parma. Le sigarette con i marchi Regina e Diana, del valore di oltre 2 milioni di euro, sono state scoperte in due diversi depositi. Lì venivano stoccate, lontano dalla piazza partenopea, su cui si sta concentrando l'attenzione delle forze dell'ordine, e poi trasferite in piccole quantità nel napoletano. La vendita delle bionde avrebbe provocato un danno all'erario stimato in oltre un milione e mezzo di euro. Con questo blitz, le fiamme gialle hanno bloccato una nuova rotta di approvvigionamento di sigarette di contrabbando. Ristoranti, bar e condomini del caratteristico borgo marinari di Napoli, multati complessivamente per circa 200 mila euro, perché scaricavano liqui e amine le fogne comunali senza le necessarie autorizzazioni. Oltre 200 mila euro di multe sono state elevate ai danni di bar, ristoranti e condomini dalla polizia locale, nucleo ambientale, dopo un'ispezione dell'ASL e del consorzio Ato2 alle fognature del borgo marinari. Secondo i tecnici, nei canali di scolo delle acque reflue, verrebbero quotidianamente sversati, legalmente, oli esausti, detersivi e liquami. Ogni singolo esercizio commerciale e condominio ha ricevuto una multa di 60 mila euro, che se pagate in anticipo si ridurrebbe a 12 mila euro. Un duro colpo per gli imprenditori che rischiano di fallire. Sono arrivate giustamente le autorità e i vigili e non hanno fatto altro che sanzionare. Insomma, siamo nell'ottica della repressione più che dell'assistenza. Voi però pagate lo smaltimento dei rifiuti, degli oli esausti, quindi tutto quello che è a norma lo pagate. Noi paghiamo perfino, ogni litro d'acqua che noi paghiamo all'Arin è comprensivo dello smaltimento. Per cui, chi come me ha 5 mila litri al giorno, paga in proporzione un 60-70% del prezzo è dovuto dall'immissione in fogno. Al Borgo Marinari la manutenzione delle fognature, secondo quanto riferito dagli abitanti e degli esercenti, non avviene da anni e i canali di scarico non sono stati adeguati nel tempo alle esigenze dell'utenza. Ci sarebbe infatti una pompa di risalita che puntualmente si affoga a causa del grosso afflusso di acque. I cittadini multati sono sul piede di guerra. Ma non è il comune responsabile delle fognature, o è il cittadino che si deve proprio preoccupare di uno ma io non ne ho mai avuto idea dove scarichi quest'acqua, perché lo dovrei sapere? Voi comunque pagate la spazzatura, fatela differenziata, quindi anche gli oli esausti vengono smaltiti come dovevano essere smaltiti? Sicuramente, anzi gli oli esausti, molti di noi, gentilmente, chiedono la cortesia ai ristoranti, che noi non abbiamo un posto per gli oli, a stendo abbiamo un posto per la spazzatura, a stendo. 39 persone ritenute responsabili a vario titolo in concorso con persone da identificare di riciclaggio e soppressione, distruzioni e occultamento di targhe e documenti delle auto rubate o rapinate sono state denunciate in seguito ad un'attività svolta dai carabinieri. I carabinieri di Napoli hanno scoperto un giro milionario di riciclaggio, di utilità aria e contelaio contraffatto e denunciato 39 persone ritenute responsabili a vario titolo in concorso con altri soggetti da identificare di riciclaggio e di soppressione, distruzioni, occultamento di targhe e documenti delle auto rubate o rapinate. Complessivamente sono state sequestrate 32 auto, 64 targhe, carte di circolazione e certificati di proprietà. Le vetture preferite erano prevalentemente Fiat 500, S100, Punto e Panda. Ad essere sospetti sono stati alcuni componenti delle vetture di semi sul cofano, le frecce, i paraurti, le mascherine anteriori riconducibili a modelli recenti, in malgrado le targhe collocassero l'immatricolazione a diversi anni addietro. Durante i controlli è emerso che 39 auto erano provento di furto e rapina e che i numeri di telaio erano stati contraffatti. Presso l'aula a Pessina della Federico II di Napoli, il vice ministro degli esteri per la giornata sulla cooperazione internazionale e il nostro futuro nel mondo è intervenuto appunto il vice ministro Mario Giro. La cooperazione internazionale come occasione di lavoro per tanti giovani laureati se ne è parlato nella facoltà di giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli durante un incontro a cui ha preso parte il vice ministro degli esteri Mario Giro. L'idea è quella di dare orientamento chiaro e pratico di cosa si può fare nel mondo. Il messaggio che i giovani ricevono è andatene, invece quello che dico io è andare ma non andarsene, nel senso che ci sono tante cose che legano all'Italia nel mondo e che rappresentano il nostro paese a livelli di eccellenza. L'iniziativa è stata anche occasione per parlare con il vice ministro degli effetti sull'Italia dell'uscita dall'Europa della Gran Bretagna. L'Italia si sta preparando al Brexit innanzitutto con una vena di tristezza direi perché quando c'è un divorzio è sempre colpa di entrambi, un po'. Noi non temiamo niente in particolare, sappiamo che bisognerà negoziare per lungo tempo e direi che noi non abbiamo l'idea di un negoziato punitivo anche perché in certi settori come per esempio la difesa ci sarà sempre bisogno dei britannici. Mi auguro che la regione Campania non faccia mancare il suo sostegno nell'opera di fusione tra azienda napoletana di mobilità e CTP, così da realizzare una grande azienda metropolitana del trasporto pubblico. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris a margine del Consiglio Comunale a cui ordine del giorno è prevista la delibera di proposta del Consiglio relativa al piano dell'azienda napoletana di mobilità. Il sindaco ha sottolineato che con l'approvazione della delibera NM avrà le linee di indirizzo strategico che significa azienda tutta pubblica salvaguardia dei posti di lavoro e dei diritti acquisiti e mettere l'azienda in condizioni di fare il piano industriale per il miglioramento dei servizi. In merito alla fusione tra NM e CTP, De Magistris ha concluso affermando che il sostegno della regione è fondamentale perché il trasporto pubblico dipende molto dal punto di vista economico dalla regione. Giornata interlocutoria al Consiglio Comunale di Napoli. Dopo il question time e la comunicazione del passaggio della consigliera Caniglia dal gruppo Verdi Sfasteriati a Dema, il Consiglio è stato sospeso per consentire in conferenza dei capigruppo un approfondimento delle emozioni e degli ordini del giorno. Clima teso tra la maggioranza e l'opposizione per quanto riguarda la situazione a NM. Per Mimo Palmieri è impensabile perdere immobili che rientrano nel patrimonio comunale. Emergono diverse criticità leggendo quel piano che è stato realizzato da parte dei vertici dell'azienda. Noi abbiamo più di un dubbio rispetto alla possibilità che effettivamente ci troviamo di fronte a un piano che tende a risanare complessivamente, a rilanciare un'azienda profondamente in crisi. È chiaro che il trasporto pubblico locale non è un qualcosa che procura comunque risorse, non dà sicuramente possibilità di guadagni, però la nostra preoccupazione è quella di non togliere pezzi del patrimonio immobiliare per ritrovarci tra due o tre anni di nuovo nelle stesse condizioni. Fondamentale per capire la situazione riguardante il bilancio del Comune di Napoli sarà la seduta di domani. Il problema maggiore è la rigidità del Governo sulle questioni commissariamenti e rifiuti. Il Vicepresidente del Consiglio Comunale, Fulvio Frezza, ha precisato. Comunque siamo predisposti ad approvare un bilancio che tenga conto anche di queste risorse che ci vengono ingiustamente tolte, ma se arrivasse nei prossimi giorni la conferma che giustamente ci sia questo straccio, sicuramente potremo mettere queste risorse a disposizione della Cassa e quindi cercare di risolvere questi problemi reali che ultimamente stanno mettendo in difficoltà i nostri cittadini, a cominciare dal trasporto, dal welfare, dalle scuole e dedicarci anche un po' sulle politiche assunzionali e casi ormai anche tramite l'Anci cercare un aiuto, perché non dimentichiamo che il Sindaco è il Vicepresidente dell'Anci, un aiuto anche per sbloccare tutti i paletti del piano di stabilità. La giornata mondiale dell'autismo il 2 aprile rappresenta un'iniziativa fondamentale per prendere consapevolezza circa una problematica diffusa ma talvolta sconosciuta. In Italia l'autismo è una disabilità tra le più estese e ne sono affette più di 400.000 persone e il numero è in costante aumento. Domenica 2 aprile alla mostra d'Oltremare di Napoli, decima giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Integrazione, un insieme di colori per i colori di un insieme. Sarà questo il tema conduttore di questa decima giornata presentata nel corso di una conferenza stampa presso l'Ordine dei giornalisti della Campania, così la Presidente Ottavio Lucarelli. Allora per il secondo anno io ringrazio l'associazione Lucio Vittoria che ha coinvolto l'Ordine dei giornalisti per il secondo anno. Siamo contenti e orgogliosi di presentare oggi qui l'iniziativa e di essere poi domenica mattina alla mostra d'Oltremare. L'anno scorso a Scampia c'è stata una straordinaria partecipazione e sarà altrettanto anche domenica alla mostra. Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il programma che caratterizzerà la mattina di domenica prossima nelle aree dell'ente fieristico di fuori grotta giochi, spettacoli e sport per le famiglie che potranno disporre i spazi attrezzati ed un confronto tra rappresentanti delle istituzioni ed esperti. Le iniziative è programmate dall'associazione On Luce Professor Lucio Vittoria con il patrocino della Regione Campania del Comune di Napoli, del MIUR, della Santo Bono Pausilipo e del Comitato Italiano Parolimpico. Durante l'incontro con i giornalisti il convegno studi prenderà il via alle 9 nella Sala Italia con i saluti del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Così Francesco Scarpato, Vicepresidente dell'Associazione Professor Lucio Vittoria, che introdurrà i lavori. Anche quest'anno, come lo scorso anno, la nostra associazione è in prima linea per divulgare e per dare informazioni per quanto riguarda tutte quelle che sono le iniziative legate all'autismo. Noi per la decima giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo abbiamo organizzato alla mostra d'oltremare domenica mattina, domenica 2 aprile, una giornata che deve essere una giornata di gioia, di festa per le famiglie perché all'esterno abbiamo organizzato tanti gazebo, piedi di associazioni che faranno in modo che i nostri ragazzi possano imparare a stare insieme perché il nostro slogan è integrazione. Una delegazione delle città metropolitane incontrerà la sottosegretaria della Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi. Lo ha confermato il Vicepresidente del Lance e Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, al termine della conferenza unificata. Mancano le risorse necessarie affinché le città metropolitane possano espletare le funzioni fondamentali, ha spiegato, siamo in una vera e propria emergenza che si trascina ormai da tempo insieme a quella delle province. 205 cause incardinate in primo grado di giudizio, con un aumento quasi del 39% rispetto all'anno 2015, 235 nel 2016, quelle definite, e una riduzione di quasi il 17% delle cause pendenti. 50 invece le cause incardinate in appello dall'entrata in vigore della nuova normativa rispetto alle 449 del 2015. Sono alcuni dei dati presentati da Monsignor Erasmo Napolitano, Presidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, al termine della consueta preghiera, mentre la prolusione è stata effettuata da Don Ettore Signorile, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Piemontese. A porgere i consueti saluti l'Arcivescovo Metropolita di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, che ha ribadito la volontà, dopo la riforma tribunalizia, di mantenere tutto l'organico ai propri posti, e ha spiegato la funzione dei tribunali ecclesiastici nell'ambito della vita dei fedeli. La parte tipicamente giuridica che viene svolta poi da tribunale, in realtà è il risultato di un cammino che parte dal fedele insieme col parroco, che coinvolge il vescovo e che poi dopo trova una sua definizione e da parte quello che può essere un giudizio da parte dello stesso tribunale. Per cui diciamo che c'è un coinvolgimento completo. Da parte nostra, per esempio, qui anche di Napoli, noi si sta cercando di mettere su un consiglio che riguardi soprattutto le problematiche matrimoniali, in relazione a quelle che sono state le ultime indicazioni che ci ha dato Papa Francesco. Ma si cerca di avere una visione il più possibile esatta della situazione particolare di ognuno. Bene, è davvero tutto per questa edizione, è il nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, vi ricordo l'inizio mail cui potete scrivere in redazione chiocciolatelevomero.it Arrivederci alle prossime edizioni.